e adesso vi propongo un po di matrici che devono essere utilizzate la prima è la matrice giorno prodotto fatturato quindi i miei sulla sinistra ci sono i prodotti di prima in alto le colonne sono divise per giorni della settimana e cos'è che mi fa capire mi fa capire quali sono i giorni che ogni singolo piatto mi fattura di più e se cominciate a metterlo giù vedrete che ci sono dei giorni particolari per cui i piatti vi fatturano di più rispetto ad altri giorni questa è matematica statistica e qui comincia a fare delle analisi e comincia a vedere che ci sono dei piatti che mi hanno un picco di vendita in alcuni giorni della settimana questo vale tranquillamente anche per il bar ho un bar vado ad analizzare tutto quello che vengo nel bar o un locale lavoro la notte è uguale cioè vado ad analizzare quali sono i giorni e qual è la tendenza per giorno a settimana dei miei prodotti in fatturato questo mi incomincia a essere utile per tutto quello che vedremo più più avanti che è tutta la parte del revenue poi faccio la matrice giorno categoria fatturato quindi ora voglio cominciare a capire però massimizzando per ogni giorno quali sono le categorie dei miei piatti e questo ripeto vale esattamente anche per il resto come lo facciamo vedere che mi fatturano di più e qui si va a evidenziare alla fine che ci sono dei giorni dove gli antipasti e i secondi hanno un picco di fatturato questo mi aiuta a poi a metterci dentro in tutto questo e a generare poi la matrice mese categoria fatturato quindi i miei antipasti fatturano in un mese questo i miei primi questo i miei secondi questo e i miei dolci dessert esattamente questo ora quali sono i due le due categorie che fatturano di più gli antipasti e i secondi questo in questo esempio o e questo è la matrice mese categoria fatturato devo comparare con la matrice mese categoria margine e qui si comincia a entrare nel merito evidenziare che gli antipasti nonostante ho uno slancio di fatturato alla fine però non c'è una grandissima marginalità di differenza rispetto ai primi piatti e questo mi serve anche per capire quali sono le categorie dove spingere e dove creare un po dove andare a creare delle strategie di vendita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti